Mentre qua ci sono quasi 25 nodi Stiamo affrontando un mare abbastanza formato Eccolo lì! Salta in su del Finones Si vuole dare una mano evidentemente Si dice che dobbiamo andare in là Guardalo! Bello animale, eh? E' qui! Sono 4 o 5! 4 o 5! Mamma mia che bello! Ah il canale d'Otranto! Ah, l'avete visti? Eccoli qua! Loro si divertono! E' un pochino meno Porca miseria! Ma qua ci saldi, eh? Eh, ti è saltato in teso Eh, queste sono le insoddisfazioni, dai! Isaù le insoddisfazioni... Wono! Ha? Una l'avete bible! ocolata!